oh eccoci qua bentornati bestiace su scorn il gioco che c'è valso il ban su tik tok non è vero non è vero c'è non è un ban vero e proprio però più o meno all'incirca direi di sì bestiace bentornati in questa horror night di disgusto di schifo lo sapete ormai come funziona dovete aiutarmi dovete aiutarmi soprattutto per quanto riguarda mi sento scomodo mi sento molto scomodo per quanto riguarda chi è cimino attenzione grazie bestiace per mille bit ma sei fuori grazie grazie mille grazie il seibaruto valhalla dovete aiutarmi con gli enigmi ragazzi perché inizieremo con un enigma se tutto va bene se i salvataggi non si sono cobrupti e ricominciando lì e vediamo se ce la facciamo ma non sono molto sicuro di ciò però prima vorrei dirvi una cosa mi sono guardato mi sono guardato allo specchio e ho ho capito ho capito di essere uno stronzo vero uno subdolo uno di quelli è che si diverte si diverte con la sofferenza degli altri ora vi spiego una piccola storia una cosa che mi piace fare per strada ogni tanto così giusto per adesso che possiedo il cane posso farlo lo faccio grazie augen rotto valhalla per i quattro mesi credibile che cosa consiste la mia stronzaggine beh molto semplice mi piace mi piace alle persone che mi fermano per strada per accarezzare il cane o fargli le coccole mi piace dare un nome falso del cane tipo quando mi chiedono come si chiama come si chiama dico che si chiama spike per dire o non lo so che si chiama rex in modo tale che quando chiamano il cane per fargli le coccole beh il cane non si gira e loro ci rimangono male mi piace fare queste cose affinché loro si sentano inadeguati e solitamente mi rispondono ma che strano solitamente i cani mi adorano io rispondo beh a quanto pare no a quanto pare no con annessa anche la risata ovviamente e ragazzi funziona così bubolo grazie bestiaccia valhalla ciao ciao nostro moderatore di discord e di tutto il resto è diabolico lo so ai ragazzi non posso farci niente però capisco è abbastanza da stronzi è abbastanza da stronzi soprattutto quello quando lo fai con persone anziane che dylan grazie grazie mille ha regalato un abbonamento grazie chiunque tu sia sai che ringraziare ringrazia dila rasgardo grazie mille rotto valhalla per 11 mesi siri è incredibile ha sottoscritto un abbonamento grazie per il cimino che ha regalato cinque incredibili abbonamenti sai chi cazzo sapete chi cazzo ringraziare haugen appunto e poi legend killer c'è un hype train il seba grazie grazie bestiaccia a tutti quanti voi che cercate di farci mangiare grazie grazie bestiaccia rotto valhalla allora adesso vi saluto è siete pronti per scorn vi sta piacendo no vi sta interessando io non lo so non ho ben capito ci sono pareri contrastanti non non capisco non capisco se vi sta piacendo o no un sacco addirittura si insomma vedi si è fighissimo per ogni sì c'è un no per per tre sì c'è un no è una statistica accidentale no e che ci fai qui alex grazie alex il fatto che tu sia qui vale più di ogni altra cosa però è vero se cazzo se venite anche se il gioco non vi piace io sono estasiato vuol dire che volete la nostra compagnia per me è un onore bestiaccia chi è sì ma no il gioco no ma le tue reazioni mi fanno spaccare grazie carigno pitigno grazie grazie carmen allora vi saluto casello asdrubale erica daxin e now tambu ce l'ho fatta cacopuzzolo timidone poi abbiamo vgol abbiamo è troppo veloci ragazzi sissino abbiamo smeriglione smeriglione smeriglio donte come minchia faccio matti flame dark shadow giuekio incredibile la burla italiana il circo magica fasu hakuna ammazzata finalmente non mi è mai piaciuto il re leone ve l'ho sempre detto hels in hell ci sono troppi gatti aldwin green eyes luci da daele piacenza wire washing my names uno poi abbiamo sarà fgf chi è chi è chi è chi è fermi gli ultimi gli ultimi tre coso che gira in a no aspetta donna con bistecca e poi qualcuno di nuovo dai qualcuno di nuovo ragazzi dai sami zain 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 ce l'ho fatta e no idea come sono anglofono cazzo grazie ai nuovi corsi con babbel grazie a una spesa di soli 80 euro al giorno grazie all'istruttore privato con la quale mi imbarazzo sono riuscito a imparare l'inglese fatelo ragazzi se vi interessa conoscere le lingue studiatele insomma quindi congratulation grazie 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 allora prima di iniziare c'è qualcosa che bisogna dire grazie star grazie bestiaccia per il tuo ride di 1 prima prima di iniziare c'è qualcosa che dovremmo dire non so che minchia vi siete bevuti allora effettivamente è stato un po allarmante la storia del maestro stamattina si è svegliato gli ho detto mi raccomando è fai la storia pomeridiana cioè ha detto faccio la storia pomeridiana dove lui mi ha detto faccio la storia pomeridiana dove dico che le pomeridiane cioè faccio la storia dove dico che le pomeridiane le live meridiane per adesso si fermano ricominceranno con bayonet probabilmente settimana prossima insomma con qualcosa di un pochino più interessante e ho detto sì mi raccomando però non farle tragiche c'è un tono un po felice minchia la prima storia che fa io ho aperto per tuo instagram erano tipo le 10 vado sulle storie porca troia una faccia cupa gli occhi chiusi con ancora la cacchetta da nanna dentro devastato con la voce rotta così ah mi fa male adesso piango c'è robe una situazione tragica non ci saranno più le live pomeridiane e quindi la gente si è cacata addosso ha iniziato a dire no maestro per favore torna non lo fare non fare il grande passo fermati fermati e si è creato sgomento però state tranquilli il maestro tornerà è come è come una bellissima farfalla adesso da pupo sta diventando bozzolo adesso sarà dormiente in questo bozzolo ma rinascerà con queste ali bellissime un altro sesso sarà pronto per settimana prossima con qualche gioco che potrà deliziarvi abbiamo pensato questa cosa qui quindi le pomeridiane per adesso si fermano e ricominciano tranquillamente la prossima volta va bene non abbiate paura non abbiate pure perché io so che appunto potrebbe alcuni di voi sono rimasti malissimo no le live il maestro che fine ha fatto minchia ragazzi calmi ma non è successo niente grazie enatambu grazie salve salve ma vuotan che ti lecca il ginocchio si capisce che sono italiano ma dove io o sai qualcosa che non so sotto di me non c'è niente per niente intendo proprio niente ragazzi o la la sindrome dell'encormen o soltanto testa e busto buco del culo e le zampe sotto i piedi non esistono sono un busto che mi muovi tipo il boss di di art attack non ho più niente da sotto quindi non ho idea di cosa cioè se mi sta leccando non lo sento incredibile adesso si sta muovendo si sta distruggendo tra l'altro è una fatina il mio cane perché quando si sdraia quando si rilassa si butta quindi tu senti di notte senti che poi dà il il suono del rilassamento fanno i cani molti cani lo fa di notte dici cazzo succede scoppiato scoppiata la caldaia ebbene no è il tuo cane che è un po strano si tuffa si si lascia cadere di no lei piacciono gli horror no no assolutamente li faccio perché sono costretto da un ente da un ente privata e twitch che mi obbliga io questa cosa non la volevo fare allora stasera partiamo ragazzi con qualcosa che non voglio fare scorno incredibile ma vero iniziamo a giocare figa l'enigma effettivamente non lo voglio fare vediamo se parte se non si funziona sto sbavando perché sto ciucciando una caramella abbiate pazienza sia una certa mi vedete idrofobo con la schiuma alla bocca ed è tutto normale cade tra le braccia di morfeo no insomma sì boh non lo so funziona andiamo funziona funziona fatemi una prova check audio prova prova sa 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 kepler anche perché sta invecchiando sbavi sì lo sapete che c'è l'evento di silent e stasera no l'abbiamo scoperto cinque minuti fa me ne frega zero francamente voglio videogiocare e non guardare un trailer non mi interessa al massimo lo recuperiamo dopo se l'hanno fatto uscire perché francamente non non lo so non sono mica tanto convinto che facciano un nuovo silent hill sono abbastanza sicuro che faranno più che altro un remake e basta mi riscordatevi scordatevi kojima perché l'ha detto kojima che non l'avrebbe fatto quindi fate voi poi se kojima è un bugiardo cosa molto probabile allora a sto punto è un'altra storia remake del primo 100 per cento povero brumotti l'ampicchiato ancora ragazzi potete dirmi ogni tanto come sta è quel periodo del mese dove lo menano e continua le coline hanno gli occhi kojima in giapponese significa bugiardo l'or l'or del maestro ho sentito che si parlava di un remake di silent hill 2 vabbè come fai nuova partita ah no no ma quanto cazzo ci mette a caricare io che ho acquistato un pc con l'SSSD eccoci qua no ha proprio qua da qui non c'ho voglia allora con calma inventario accediamo all'inventario eccoci qua abbiamo la chiave con i due robi luminosi non abbiamo più cure io sto morendo sento suoni angoscianti li abbiamo staccato i tubi dice roba che si muove l'ascensore la continua a fare i cazzi suoi questo affare io non so che cosa serve i dobbiamo cercare di risolvere questo enigma era l'unica roba che dovevamo fare io non sono in grado quindi andate su su google e datemi la soluzione allora l'unica roba che avevamo capito è che quando quella placca ossea a forma di v a forma di 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 ecco di 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 uretra si va a incanalare la in quella fessura si accende la lucina mi avete detto bisogna che si illuminino tutti illuminino tutte le luci però io non ci riesco che succede a posso girare a visuale nel mentre perché per vedere se i nemici mi attaccano ora c'ho l'ansia vedete vedete ha però aspetta il problema era illuminare quella centrale cioè in qualche modo bloccare quella centrale è impossibile ve lo dico io non si può fare è un delirio questo è un enigma sì sono cinque pallini uno in alto tre in mezzo uno in basso sono quattro uno due tre quattro ma sono cinque impiate per il culo sono cinque ma dove sono cinque uno due tre quattro quello sotto quello al centro quei due sopra sono quattro guarda in alto mi state pigliando per il culo ci state riuscendo ma guarda in alto dove ma che state dicendo troppo in alto adesso sono quattro ma state bene ragazzi che cazzo ridete non non va bene tutto a posto percentuale cinque vabbè non ti ascolto più vallo basta capito qui deve essere carica cazzo come faccio allora l'idea è che tutto quanto pernica insieme a quello centrale quindi si deve accendere sta luce qua ma io devo portare la luce anche qua sotto la luce di zar non so come cazzo fare ragazzi è per me un piccolo problema allora facciamo così aspetta facciamo così facciamo no non ce la faccio più quello sotto non riesco ragazzi ad accenderlo io arrivo a massimo fino a qua non so come cazzo fare ti stanno trollando dino ormai è andata dopo questo ce ne sarà un altro con cinque ah ok siete esperti di google vedo dino non ho letto perfetto è un delirio forse devi partire da sotto eh ma ok allora ci sta come ragionamento ma il problema è che comunque vi spiego dove sta la mia perplessità di questo enigma la parte centrale affinché si accenda la v di placa ossea lì la vedete deve incanalarsi con la parte sotto e a quel punto si accende la parte centrale e dici ok perfetto ce l'abbiamo fatta oh finalmente quella sotto invece si accende solo quando il braccio si collega giù e va bene ma come faccio a fare in modo che si accendano entrambe cioè è impossibile non so come cazzo fare devi far combaciare il pulsantino al centro con il braccio al centro esatto però non so come finire devi mettere tutte le placche ad una posizione prima dell'opposto di quella corretta com'è poi sposti il braccio centrale sul nodo di destra due volte ebbene il messaggio è andato là in cima è finita se tu guardi il centro centrale c'è una piccola v prova a partire da quello sopra muovendo uno alla volta bloccando con quello centrale ma che stai dicendo io sto flippando qui ma questi qua se io faccio la congiunzione così luminoso no non va un cazzo non va perché si accendono solo così ah perché prendono la lu- no come faccio a bloccare quello centrale ma ci deve essere un cazzo di mod- ma se io faccio così esci posso interagire adesso? ma no divido i due laterali dai ditemi passo per passo dai ce la possiamo fare insieme allora divido i due laterali poi aspetta no ho sbagliato ma com'è si gira solo uno adesso? ok divido i due laterali mo? si ma no ragazzi non ci muoviamo più dovete darmi una mano non fate i coglioni con tutto il rispetto e il bene che vi si vuole però vostra mamma ce l'ha messa anche tutta ruota quello a destra come? blocca quello centrale con il laterale è già fatto ruota quello a destra in alto lì ok ruoto quello a destra dove sto svegliando tasti ah e si muove anche quello ok ah adesso ho capito come muovere quello centrale ragazzi ok ok allora quindi il braccio fa la congiunzione per il movimento ma è incredibile è impossibile allora questo deve stare qua questo deve stare no questo deve stare di due questo sta così fermi fermi si zitti no 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 mi metto all'opera mi metto all'opera zitti no non ti girare tu shh 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 no cazzo quasi 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 sto fermo fermo idiota aspetta aspetta sto impazzendo no 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 devo fare un calcolo non sono bravo in matematica ok ma perché mo si girano al contrario è un delirio ma se li collegano alla volta si può fare no non si può fare perché devono essere è infattibile è infattibile è proprio infattibile allora i numeri di là accennati di qua girati di qua vai giù no questo in confronto rispetto a quello che ti aspetta dopo si ragazzi si ho capito eruditi bravi complimenti 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 allora se io giro questo di qua e questo lo giro di qua no figa no no questo lo giro di qua e questo lo giro di qua e questo lo giro di qua per un attimo ci ho creduto tantissimo ok adesso il problema è quello centrale per far sì che quello centrale si giri si deve girare pure questo quindi io faccio così no 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 aspetta faccio così poi faccio così è impossibile gira di uno ma vai a fare in culo guarda veramente fai così e e gira di shh quasi quasi devo girare ancora di uno eh no il cazzo devo girare ancora di uno così mi prendi in giro è impossibile ci perdere tutta la giornata ho fatto pure la rima veramente allinea il centrale prima poi se metti il braccio su uno dei due nodi l'altro lo puoi girare indipendentemente dall'altro allineo il centrale l'ho fatto poi se metto il braccio su uno dei due nodi posso girarli indipendentemente sei un bugiardo ah ma ragazzi allora ho capito come funziona è fare il calcolo dino leggi qui grazie non finirà più finalmente l'avete capito figa ragazzi figa microsoft ci stiamo divertendo a iosa qui ah no dio buono no vai di là tu ok calma aspetta aspetta ricolleghiamo questo qui no ok figa che fastidio sto gioco ok ma se io blocco questo non è meglio è molto meglio è molto molto meglio eh no non è meglio un cazzo perché poi devo girare facciamo così facciamo così facciamo così facciamo così no 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 ah sì più o meno adesso vediamo un attimo se il mio calcolo è giusto eh no perché si muove l'altro è infattibile ma io lo rivado a sistemare perfetto perfetto sta esattamente funzionando è esattamente quello che volevo vedete c'è del genere c'è uno schema c'è uno schema è che voi non riuscite a leggerlo mi sono rotto i coglioni me la sento che ce la fai leggi Daxin è finita ma non lo può non lo può risolvere Andrea ma Andrea non è capace che c'entra ma uno scollega i cerchi in alto scolleghiamo i cerchi in alto ma allora fermi però perché attenzione ok adesso ho scollegato i cerchi in alto adesso allinea il triangolo al braccio che poi colleghi giù questo ci siamo ce l'ho fatta no giusto guidatemi passo per passo tipo Morpheus ma è fatta cosa rispondete figa Andrea leva sta cazzo di modalità lenta della chat porca troia sono tre anni che lo dico scusate adesso gira il braccio a destra gira e quindi e quindi e quindi di qua di dove parlate alinea la placca centrale col braccio centrale ma non Avro non riesco a capirlo quel cazzo di messaggio lo stai spammando dieci volte è incapibile è difficile passo per passo non tutto insieme figa stiamo molto calmi stiamo molto calmi calmi mi sanguina il naso mi dice si deve essere rotto un capillare chi non ha capito non scriva a posto perfetto geniale te le invio su IG no 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 ditemela l'interazione è su Twitch noi non dobbiamo barare a parte in questo caso che mi stai dicendo cosa fare ascolta Daxin eh non scrive la placchetta al centro devi fare in modo che combaci con il braccio ci sto provando vi giuro che ci sto provando aspetta così aspetta un attimo eh no perché poi gira l'altra non ci posso credere non so neanche cosa ho fatto tra l'altro perché perché si allineasse quella sotto non so neanche che cazzo combinato allora vado a sinistra il problema è che se adesso io giro questo ragazzi allora vi faccio vedere se io adesso giro non lo faccio perché sennò smerdo tutto di nuovo se io giro questo qui nel momento in cui è collegato con l'altro con questo e quindi stacco la congiunzione sopra mi si muove anche quello centrale e siamo punto a capo e siamo punto e a capo e siamo punto e a capo gira solo quello di sinistra visto che si gira anche quello sotto è infattibile e quello me lo storta poi affanculo vabbè possiamo girare anche quello di destra in realtà poco cambia però si è disallineato quello sotto che gioco del cazzo che gioco del cazzo però adesso loro perlomeno dovrebbero essere perfetto ora devo cercare di riallineare quello sotto figa muovi il centrale a destra così il sinistro puoi muoverlo da solo ah ma si può fare così ah ok quindi devo riallineare riallineare beh riallineiamo quello al centro come cosa è successo non doveva ma non doveva com'è successo ha completamente a caso il gioco ha detto senti mi hai rotto i coglioni ma che è successo vabbè easy abbiamo un pezzo di che cosa eh no eh no ragazzi no no avete visto che girandosi la colonna c'era un altro enigma dietro con 5 di quei pallini minchia mi sto divertendo così tanto dammi un'arma un'arma che sia in grado di faremi male allora attenzione abbiamo trovato credo una sorta di chiave che succede che succede chiuditi che sento suoni girati eeeh beh però il fatto è che possiamo guardarci l'inventario anche guardandoci i coglioni questo ci fa capire che i coglioni per l'uomo sono tutto il suo inventario dobbiamo cercare di capire cosa devo fare ah lì 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 devo fare tutto il giro non c'ho voglia facciamo tutto il giro ma fare attenzione perché ci sono i nemici qua attenzione veloce 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 perfetto ho vinto i nemici non ne vedo quindi per adesso siamo salvi mi sono allenato col professor Layton grazie Daxin non mi interessa che siate capaci mi interessa che andate su google cioè sarò sincero ok e questo bene quindi abbiamo aperto il passaggio di sotto ottimo andiamo c'è un po' d'ansia manca la terza chiave ora esatto quindi mo salgo su ma risale su sta roba yes reparto elettronica eccoci un pistolero se tengo premuto mi mira boom baby non ho più proiettili ne ho due fermi è esploso oh madonna sono tanti no 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 ok calmi calmi veloce cambia arma cambia arma no 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 ti prego dimmi che hai salvato dimmi che hai salvato per favore non mi fa ricominciare da capo dimmi che hai salvato per favore no ti supplico non voglio ricominciare da capo per favore per favore non farmi rifare l'enigma dimmi che hai salvato per favore per favore spengo il gioco no 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 ragazzi incrociate tutto incrociate anche i peli minchia ho vinto ma ho veramente così poca vita eh sì Dino corri c'è una cura subito dopo grazie Avron Arvom tra l'altro perché ti leggo perché sono un dislessico la mamma lo diceva sempre non sei capace in generale nella vita allora io direi di ammazzare l'uomo pollo che secondo me è il più pericoloso la vita dite dove cazzo non è la vita di qua vado no 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 ah ah è vita è vita veloce veloce ma in questi in questi frangenti il gioco si si ferma c'è i nemici mi seguono ancora ok 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 curati curati boom baby che botta eh che botta no 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 è andato no 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 ok ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ho la situazione sotto controllo calmi 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 eliminiamo no 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 oddio 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 ok ok no non tu tu no ma fa culo corri 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 mi sono mi sono incastrato cristo santo ok 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 è diventato un gioco action ma sta roba si può uccidere che schifo che schifo sento suoni e non capisco zitti ok lui è rientrato nella sua tana e là ce n'è un altro forse è lo stesso di prima oh no oh no è affetto da convulsioni da spasmi di sofferenza io mi curerei ancora ragazzi perché siamo soltanto ok almeno adesso abbiamo metà vita vado ok è un colpo andata è morto? no non è morto iiii signori e che cazzo sono due orca troia due volte ho preso due volte no 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 devo eliminarli devo che fa? non funziona più? curati vabbè uno dice vabbè devo farmi una specie di di flebo quindi il cavo che utilizzo ha un amo che mi si infilerà nel braccio no noi abbiamo un amo che ci esce dal braccio nella quale dobbiamo infilare una capsula cioè è un casino sto gioco è tutto il contrario fermo buono così non mi ha preso allora ma come cazzo ha fatto? c'è un problema di hitbox nei giochi ultimamente non muore non vuole morire merda è andato? figa non crepa no non crepa no continuiamo non lo so ragazzi sviluppatori quando capirete che nei videogiochi horror ci servono le munizioni o delle armi in grado di fare del male a sto punto non so se abbia più senso ammazzare il pollo o ammazzare i qua i cagnoloni allora facciamo che provano a sprecare munizioni che dite? sviamo il problema sviamo il problema come nella vita vera mai affrontare i problemi di petto ragazzi cercate sempre la soluzione più facile fidatevi i cagnolini muoiono con tre colpi di pistola cos'è una ricetta coreana? via partiamo ce la possiamo fare dino scappa grazie mi cura vai l'enigma e dopo un po' i polli vanno via ah cazzo no e il problema è che il pollicino figa che cazzo di suono allerta gli altri se vado all'enigma quello mi ammazza guarda che schifo shh zitti zitti dov'è? dov'è? ma visto ma come ca... shh ah fuggi è andato? che carino ok immagino che forse i colpi di fucile mi facciano esatto di allerto è andato buoni 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 calmi calmi buoni calmi calmi ah è a fianco a me che schifo che schifo allora forse qua possiamo affrontarli più facilmente ok un colpo l'ultimo che avevo non l'ho preso non l'ho preso da dio ok vediamo se adesso non gli allerto più ma si si facciano i cazzi loro guarda eh non mi cagano è palese si stanno avvicinando si stanno avvicinando si stanno avvicinando stanno rientrando nelle loro calde di more calde e umide di more a posto non ce la posso io non ce la posso fare no ragazzi figa no no ragazzi non non no ragazzi allora l'idea è sempre quella di eh allineare il braccio centrale direi a questo punto mi ha visto merda no devo ucciderli altrimenti non riesco a fare la l'enigma che stanno che sta succedendo laggiù lo zoo a cernobil me lo immagino così ce ne sono sei uno due tre quattro mi avete rotto i coglioni ce ne sono cinque non iniziamo con le come prima e il problema è che non ho capito che ho fatto prima è andata molto a culo questi qua sono congiunti quindi si muovono insieme questo qua si muove insieme all'altro forse questo paradossalmente è più facile dell'altro vi spiego perché quello sopra lo posso muovere no ma quello mi gira verso destra o verso sinistra una figa ok quindi faccio così perfetto merda mi manca sempre lui allora questo deve stare di qua questo deve girarsi eh no però perché poi quell'altro è impossibile ok torni ah quello me lo manda avanti l'altro me lo manda indietro figa è è allucinante ci ci sto arrivando con una strategia che si chiama un po' alla volta quasi quasi ok è difficile ce la posso fare ci sto provando mica ma che cazzo di case ah no ma lo so ma si che lo posso selezionare ma scusami ma va a cagare ah no son sei davvero uno due tre quattro cinque sei oh cristo dio no 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 sono sei veramente no no vabbè allora riallineiamo questo con il braccio non l'ho allineato mai con il braccio non ci sono riuscito perfetto ok e girano tutti insieme ah ah cioè praticamente devi fare l'enigma ma al contrario adesso è un delirio ragazzi c'è ma come cazzo ma devo avere la mente divisa in tre encefali come non ce la posso fare cioè non è che non ce la non ho neanche voglia capito ma se io stacco con no per l'amor del cielo hmm dov'è il braccio su che fine ha fatto il braccio su non riesco a selezionarlo più ah perché giustamente non devo andare su con la freccia devo andare a destra per andare sopra perfetto è anche un enigma riuscire a capire i tasti che devi premere scorn resteremo qui forever esatto non è vero ma si girano tutti e tre adesso sti stronzi ma prima non si giravano solo due ma è è incapibile il meccanismo non si muove dov'è il braccio dov'è il braccio è qua il braccio minchia ragazzi minchia ragazzi non so come cazzo ho fatto sono abbastanza sicuro che dopo un tot timer il gioco dice senti eh però tranquilli perché per fortuna di questi enigmi non ne vedremo più per il resto del gioco sono abbastanza sicuro di questo abbiamo preso la chiave qua si è riempito di sangue che magari mi rifaccio la vita ah non si può più ah non si può bene è quello lì in mezzo ai coglioni lo attiro e scappo vieni qua vieni qua ora merda 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 no l'ascensore sei andato adesso non ci posso credere veloce 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 ok no non mi sta cagando prenditi tutto il tempo che vuoi e voilà tutto questo per arrivare a piano di sotto perché sono a piano di sotto no 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 portami su ok ancora di uno grazie perfetto di qua giusto si ok ok ragazzi con calma con calma easy ultima chiave e via buono chissà dove va a parare il gioco vi siete fatti un pochino l'idea della della storia che c'è dietro scorn scornificati vivi e quindi no non capisco cosa sia successo perché non ho guardato il monitor stavo colpisci di sulle schiena e gli sciotti avevo notato sta roba però non ero sicuro non ho avuto poi modo di sperimentare allora lì c'è un altro vedete lì c'è un una una console lì e una console là quindi un attimo cercare di capire che cazzo fare comunque adesso noi scendiamo e vediamo un po' come si attiva sto meccanismo immagino che adesso questa che è stato immagino che adesso questa ascensore quella a fare lì si possa attivare e prenda il gancio prenda l'ascensore e la sposti là dove ci serve perché non so se vi ricordate ci serve l'ascensore per andare dall'altra parte dall'altra parte ma qua ci siamo già stati? ci siamo ci siamo ci siamo già stati qua? non mi ricordo un K c'è una strada di là figa figa non so cosa fosse quel verso ragazzi non fatevi non fate domande ma che devo fare? dov'è che va con l'affare? vai giù? ci viene ancora di uno si blocca lì e quindi? devo attivare quella catena boh ma non mi ricordo più non mi ricordo più perché secoli fa abbiamo utilizzato ah eccoci qua abbiamo utilizzato la console mi si azzera completamente il cervello dopo che faccio gli enigmi ah però cos'è caduto? cos'era quella roba? ok soddisfacente soddisfacente vedere queste scene ragazzi come infilarsi un cotonfioc anche se 10 medici 10 medici su 11 consigliano di evitare il cotonfioc ma utilizzare l'acqua marina o di annegare il modo di tutto migliore per pulirsi le orecchie è annegare ragazzi ok quindi mo se ne va sul nastro trasportatore in inglese trasportare qua c'è un bellissimo garagino attiviamo sto affare pieno di facce di robe fa schifo aspetta guarda nooo no 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 tira giù tira giù tira giù tira giù ho sbagliato tira giù dobbiamo usare il braccio l'audio è eccezionale e il resto che un po' ecco galahadz grazie mille bestiaccia roto valhalla allora ragazzi piccola piccola info per quelli di voi che vengono da tiktok andate su instagram perché molte volte tiktok come è già successo ci banna i video quindi se volete vedere i clipini li trovate su instagram che lì sicuro nulla può succedere nulla di male può accadere quindi vi consiglio di iscrivervi a instagram ci mettete un attimo se avete instagram altrimenti iscrivete accedete a instagram solo per cop tv incredibile quale onore lo so è un social per vecchi però beh ecco va così va bene e tra l'altro potete anche vedere ovviamente le le storie quotidiane così sapete la programmazione giornaliera bestiaccia almeno siete sempre sul pezzo dove devo porto su porto su non so che cazzo io stio facendo ora immagino che debba schiacciare sta roba mi sono già iscritto a instagram e allora non stavo parlando con te grazie comunque oggi sono molto irritabile ragazzi irritante anche e mo allora abbiamo spostato questo di qua lì c'è un altro gancio vuoto immagino debba attivare quello a fare lì per l'animazione che infila le dita nei buchi è agghiacciante ottimo però soddisfacente ok magazine amazon simulator ancora io sento suoni che non dovrebbero essere ascoltati ragazzi non ho idea di dove devo piazzare sta roba immagino a sto punto di piazzare dall'altro lato tipo qua c'è quella che para un ascensore questo non dovrebbe finire su questo su questo binario non sto capendo o io devo muovere l'ascensore aspetta facciamo una roba ma è tutto ma mi sono rotto il coglione è dall'inizio del gioco che ci sono enigmi ma puoi darmi un attimo di tregua mentale un po' di action un po' di sano action ok si è staccato pure questo e adesso portiamo l'ascensore di là vediamo che succede si è sposta sta ascensore andiamo sto andando indietro no figa vabbè e quindi vabbè l'importante è che funzioni cioè in qualche modo funzioni ragazzi adesso il gancio può prendere l'ascensore qui no ma ragazzi che cazzo cosa serve sta cagata ad andare dall'altra parte poetico poetico e questa cagata cosa fa ah no è quello che abbiamo usato prima è il gancio di qua forse sono un deficiente e ho capito adesso con il braccio lo metti sul gancio già ci sono arrivato ora calmi buoni opla ok staccati ottimo quindi mo faccio così no quindi mo faccio quindi mo io quindi adesso e come devo e mo l'ascensore non la posso chiamare la posso muovere attivare solo quando ci sono sopra sistema interessante tra l'altro devo proporlo all'amministratore del condominio tutto questo per un ascensore si ma ragazzi ho una domanda quindi cioè anche se fosse adesso anche se io spostassi questo ascensore riuscisse a spostarlo di là per poterci entrare che cazzo serve cioè vado da qui a qui e quindi ho un binario continuo in qualche modo cioè non sto non sto veramente capendo quale cazzo sia lo scopo di sto gioco c'è un altro binario lungo qui che non abbiamo mai utilizzato ah no si questo qua l'abbiamo usato boh non mi ricordo devi metterlo vicino alla porta dici questo aspetta allora il gancio sposto sposto l'ascensore e il gancio dall'altra parte allora ci appiamo su questo questo lo posso spostare eh no me lo fa spostare o a destra o a sinistra ragazzi vicino alla porta non posso me lo fa muovere o a destra o a sinistra era giusto ah e allora devi muovere l'altro gancio questo qua ma no ma sto qua ci manda giù ah l'altro gancio è di là dite eh ma l'altro gancio è di là ci aspetta non mi sto ricordando le cose ci sono troppe console quello a destra adesso ho capito adesso ho capito ti andavate questo figa un genio ce l'ho fatta ragazzi ce l'ho fatta perdonatemi e che è tutto uguale ci sono 50 tasti 50 console differenti non si capisce un cazzo bene perfetto adesso che abbiamo ottenuto questa minchiata ah intanto sento suoni e non va bene e mo cioè ragazzi e adesso sinceramente sono curioso quindi adesso ma vaffanculo ma tutto sto casino ma ma qua ci siamo passati c'è prima l'ascensore di prima quella che stava lì ve la faccio vedere l'ascensore che stava lì no no aspetta ma porca tratti ci passava davanti ma non potevi cioè veramente io ho fatto tutto sto casino per passare in un punto dove sono già passato avrebbe avuto senso se io avessi fatto l'enigma per aprire una porta che non riuscivo a raggiungere ma aprire una cazzo di porta dove ci sono passato davanti è proprio una presa per il culo però ragazzi dai madonna che fastidio eh lo so che non si fermava però che stronzata almeno dammi qualcosa di più soddisfacente anche io speravo di scendere anzi avrei voluto ascendere eccoci qua buonasera ancora sti cosi che fa? che fa? micchia complimenti perfetto balgato il minimo indispensabile eeeh ah già è vero che il nostro parassita ci sta? ah micchia sputiamo sangue adesso la fase successiva della gastrite eccoci buonissimo arriverà prima o poi a strizzarci la spina dorsale io non ho più vita ci la spreme tutta per bene aaaah va chi c'è qui? no dimmi che mi servono ancora le chiavi e quei cosi? che schifo cosa sei tu? è un potenziamento che fa? ci dà altri proiettili? ah per la pistola si giusto giusto ottimo thank you beh perlomeno questo è positivo carichiamo l'arma voi direte e come si carica l'arma? beh così vedete come ogni arma infili la colonna vertebrale dentro la ragosta che possiedi e a quel punto puoi sparare col tuo fucile è tutto normale che succede? no 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 ehi allora lì ci sono degli stronzi che forse non so se ha senso sparare a quello stormo sì è uno stormo non sembra ma quelli sono tipo pipistrelli non so se ha senso sparare a quello affare che è stato? che faccio? ci butto un colpo? non lo so io non lo so vabbè proseguiamo non infastidiamoli non infastidiamoli ah 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 si muovono ecco volano vedi? volano per mezzo di non si sa propulsioni non siamo dei biologi non ce ne frega un cazzo per noi è magia non è scienza tale deve restare eccolo lì ora da quello che abbiamo capito nel gioco queste sacche sono uova che contengono altri esseri antropomorfi come noi altri umani altri credo io esperimenti falliti che poi muoiono appena vengono vengono alla luce noi siamo gli unici in grado per adesso di fare quello che facciamo quindi secondo me noi siamo l'unico esperimento riuscito in qualche modo guarda chi c'è qui aspetta lo timbro cheese non riesco a è morto? ah vabbè c'è il pollo cazzo 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 oddio non so se ha molto senso è veloce muore ok come sono messo a vita? figa sono messo malissimo sono messo malissimo sono messo ammazziamoli va non mi fido di loro ammazziamoli e voilà si pare che colpiti sulla schiena li shottiamo se li colpiamo sulla schiena qui c'è un altro c'è una bellissima visuale di non lo so questa per un altro ascensore eh vorrei procedere posso procedere? si non so cosa io stia facendo ragazzi è l'esterno si era l'esterno oh madonna santa no 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 eh vabbè dobbiamo andare di qua per forza ragazzi eh uno alla volta con pazienza sanifichiamo il posto perfetto che schifo a posto vogliono 6 ore per caricare l'arma io questi li ammazzo perché non so mai se possano qualcosa o meno prendere vita anubi dio cane grazie mille bestiaccia per i 5 bits che è successo? che è sto suono? non sto capendo ma che sta succedendo? come mai è sto successo il suono qua? ok va bene però avrei voluto visitare di là andiamo prima sinistra o destra ragazzi si è una dita di disinfestazione questa questo ragazzi è ciò che c'è nel vostro sifone in casa vostra sinistra destra sinistra destra sinistra ragazzi perfetto equilibrio tra le due risposte decidetevi muoiono ruttando come un vero uomo sinistra sinistra come i mancini andiamo a sinistra come i mancini via prosegua e guarda caso la sinistra è la risposta sbagliata è proprio la risposta peggiore che potevamo ottimo e torniamo a destra che è stato sto suono? ah ci sono pure dei pericoli scegliete sempre male andiamo a destra va era per esplorare no no per carità chi vive esplorando muore curioso vado ottimo delle orchidee sembrano dei sì dei petali tipo sembra un fiore sembra un fiore di quelli profumati che cazzo è sto suono che mi ha fatto? eh no però ma cos'era? minchia che schifo anche quando selezioni continua carica partita o esci tipo c'è il suono come di uno che deglutisi che schifo Cristo sto gioco ma da qua? sì ma basta però ah no di qua la strada è sbagliata aspetta madonna abbiamo il fucile e se gli scarico tutti i colpi che abbiamo a quel coso? questi penso che non ci facciano del male quindi quindi lasciamoli lì pollicino non l'ho colpito ottimo non mi ha aspetta madonna santa niente ragazzi mi è andato di traverso un boccone che schifo di suono perché i caricamenti sono così a questa bassa definizione? dobbiamo arrivare a fondo a questa faccenda questo gioco per me è molto affascinante deficita sotto miliardi di punti è molto lento è molto dispersivo però il suo fascino è tale da tenermi incollato e voglio vedere dove va a parare voglio capire cosa c'è dietro scorn e voglio capire l'obiettivo di sto gioco uno eccoci qua ottimo carichiamo puffete paffete voilà ora lo stronzo appena lo vediamo lo imbrattiamo di piombo va bene piombo che spine dorsali quello che è eccoci qua questo penso sarebbe dovuto essere un jumpscare non ha funzionato più di tanto questi li lasciamo in vita tanto non ci fanno un cazzo a quanto pare ho perso solo quattro ore per andare avanti però sta ascensore a qualcosa servirà cioè sto cancello a qualcosa servirà potremmo attirare il mostro di qua senza sbercare munizie sì mi sa che forse è la cosa giusta da fare però mi serve un piano allora fermi esplodiamo bene la zona sinistra per capire come freccare il tipo perché se io lo attiro sei ore per chiudere un cancello se io lo attiro lui passa di qua io vado di qua non posso girargli a tondo eh vedi è un problema oppure sì eh no eh no non posso oh sì eh no forse poi gli sparo lo destabilizzo e gli posso passare a fianco facciamolo 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 proviamoci il cancello serve a chiuderti col mostro a chiudermi col mostro perché il mostro sono in realtà io io non ho vita ragazzi quindi deve essere no veloce 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 merda 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 ok con calma con calma sta arrivando sta arrivando sta arrivando no allora aspetta lo attiriamo di qua no che pessima idea ma se non mi caga è molto più veloce degli altri elegante mi ricorda gli scugli gli scag come cazzo si chiamano di 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 eh ma è impossibile ragazzi devo aprire il cancello dall'altra parte ah ah Ah, l'ho chiuso dentro? Ah, perché si apre una via di là Ah Si apre una via di là Figa, un enigma per ammazzare uno stronzo Ma addirittura Ma da qua lo posso colpire? Andiamo Dimmi di sì, gioco Dimmi, dimmi di sì Ho sprecato un proiettile Ma figa Ti conviene farlo fuori? Si Anche secondo me Merda, 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 merda Ah, giustamente, ci stava aspettando, poverino Un carcerato Aspettava che il secondino gli aprisse la gabbia Buono, sta a vedere, aspetta, eh Carichiamo Con cinque colpi Madonna Uno è andato Vieni Due Ah Ma cos'è Ma come cazzo gli è venuto in mente Come ha fatto a venire in mente un cazzo anche, sostanzialmente Quindi lui passava di qua per E qua c'era E qua c'era Ma siamo seri Non ci posso credere, ragazzi Chiudendo il cancello di qua si apriva la via per passare da l'altra parte Ma vaffanculo Avrei potuto non sprecare un colpo Avrei potuto chiuderlo di là Grazie Grazie Ah Ah no Pensavo che le radici gli stessero crescendo da dentro Non potevo, sicuri? Secondo me potevo, ragazzi, eh Che poi, tra l'altro Siamo incastrati di nuovo Perché io passo per di qua E Cristo, Dio Ah, guarda il ragdoll Pare Dark Souls E qua non posso andare avanti Ottimo Vabbè Allora, con calma Un po' alla volta Mi dicono dalla regia che potevi Allora, potevo o non potevo? Ho troppo paura con gli ororo da sola Ottimo, Shurelia Abbiamo un problema, ragazzi Perché adesso Cioè Non so come proseguire Ah Che bel cane Nel suo bel trasportino Non riesco a ucciderlo Il trasportino, non il cane Non potevi Ti sei chiuso il passaggio ora Certo che anche tu Ti sei aperto un passaggio a sinistra Facendo quel giro Il passaggio a sinistra Mi riportava qua, ragazzi Scusatemi Sarò deficiente Ma mi sembra Abbastanza un giro giro tondo Non avrò Non sarò un genio Per carità Non mangio abbastanza pesce Per voi Che vi ficcate di sushi Spendete 30-40 euro a serata Complimenti Renei Grazie mille Ruto Valhalla Vai di là E vai a destra E' chiuso ragazzi E' chiuso Ah tra l'altro qua c'è No Non c'è nessuna console Lì c'è uno di quelle uova giù Forse possiamo aprirle Sarebbe carino proseguire col gioco Forse qua posso girare Ulteri C'è un'altra chiave Da qualche parte Ah Che cazzo è Ah no è la chiave di prima Sono un cretino Sono tornato qua Sono tornato qua Oddio non sto capendo Aspetta Non sto capendo un cazzo Eh no Quello Ero dove ero prima Questo è un altro ancora Minchia ma che delirio Signori Quante cazze ce ne sono Eh le avevo scambiate Per questo non capivo Dove dove dovevo andare Ok Va bene Ci sarà un altro dei dinosauri Qui non so Quale fosse l'utilizzo di sto Non so Che cosa Cosa dovrebbe rappresentarmi Questo balcone Per limonare Si limonavano qua I mostri che Che facevano robe Che lavoravano Dentro questa fabbrica Io non so Che cosa sia Tiro a indovinare Ma E' sempre più Madonna Santa Pericoloso Luoco Un altro di ste uova E' ermeticamente chiuso Eeeh Ok Scusate se mi muovo a scatti Ma è tutto molto stretto E' striminzito Di qua Arrivederci A volte mi cagano A volte A volte no Ah c'è uno di sti Cosi Di ste vie Bisogna girare questa Questa elica Quindi dobbiamo trovare il comando Per girare sto affare Forse di qua Forse L'unica Ah un ascensore Ottimo Bene Permesso Madonna Io mi sto perdendo Mi sto perdendo Ragazzi Un altro di quelli Stronzi Finchè non ci attaccano Lasciamoli perdere Che sennò perdiamo tempo Che è sta roba Oddio Ah forse ci serve L'altra arma Aspetta Giusto Yes Perfetto Ci fa girare l'elica Voilà Abbiamo attivato Uno di quelli Stronzi Bene Mi fa piacere Tra l'altro Notare che questi Cordoni Di schifo Sono Costruiti Con questi nemici Quindi Questi nemici In realtà Quelli che noi Stiamo ammazzando Sono Come una specie Di creatura Alveare Tipo le formiche No Che creano Ponti Eccetera Quelle robe lì Quindi ci sarà Da qualche parte Una regina Quello che abbiamo visto Prima forse era La formica Soldato Ci sarà Prima o poi Una bestia gigante Che ci fa un culo Tanto E questo Questo schifo Sembra aver Contaminato La zona Ah cazzo Ci serve La terza chiave Chi è Luca senza F Ruttupalhalla Un formica Un formica regino Per essere Più inclusivi Assolutamente Dov'è l'ascensore? Qua Ce l'avevo Davanti alla faccia Si scende Poi non so Se il mio ragionamento È sbagliato o meno Quindi passo di qua Trovo La Trovo la terza chiave E me ne E torno indietro Giusto Permesso Dove cazzo Siamo finiti? Ancora qui? Fica Basta Basta C'è un altro cancello Non so che cazzo Stia succedendo Ragazzi Io non ne ho La minima idea Ormai Alex Grazie mille Ruttupalhalla Madonna Uh Ma che cosa c'è? La terza chiave E Proiettili Ottimo Facciamo tutto Mettiamo qua La nostra bella zecca Il nostro papataccio Pronto all'uso Sono abbastanza sicuro Che questa sia La stessa macchinetta Che usano Al McDonald's Per fare gli hamburger E qua Un bel upgrade A posto Abbiamo Quello prima Non c'era Però non abbiate paura Perché ho questo Mi ci ho i proiettili Fighe Devo aprire Allora aspettiamo Che lo stronzo Se ne vada E poi Lo fichiamo di colpi Eh O no Ma è carica l'arma No Ah sono sei i colpi Di quest'arma Ottimo Tutto questo Tutto ciò bellissimo Io non ho vita Cioè io non ho vita Guardate Non ho vita Ho solo proiettili Oh Ah dall'altro lato Figa Non ci riesco Veloce 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 Ok si è chiuso il cancello Di là Potremo o ignorarlo Veloce Veloce Non mi vede Corri idiota Fighe sto gioco Mi incastro sempre con i piedi Non mi hai visto Non mi hai visto Ok 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 zitti 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 Via 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 Dov'è l'ascensore Di qua Devo andare nell'ascensore Non mi ricordo Sì la terza chiave è su Non mi ricordo Chiudi Ok Ok No Non mi ricordo più Figa Ti cazzo di suoni Perfetto Terza chiave Ottimo È stato più facile del previsto Adesso dall'altra parte della porta Mi aspetta lui Uh vita Vabbè E poi Che culo Ci sta Il gioco ci sta aiutando Non so se preoccuparmi o meno Riusciremo poi a trovare una di queste fontane di sangue Che ci dà completamente tutte le cure Perché finora ce ne dà solo quattro Tra l'altro Una me la infilo in vena Apposta Siamo a metà vita Ottimo Che succede? Che? Ancora? Oh cazzo A questo sta facendo il nostro corpo? Madonna Non va Non va affatto bene ragazzi Non va affatto bene È letteralmente un perassita Dove stiamo andando? Dove stiamo andiamo? Non sto capendo No ragazzi Non capisco dove siamo finiti Ok Ma quindi? Ma che posto è? Siamo sempre all'esterno? Ah dio Allora con calma Aspetta Lì c'è un nemico Quindi forse penso che quella sia la via principale Ma a me piace Cazzeggiare È un altro stronzo di qua Che chiude la via Bene Ogni volta Addirittura Ogni volta che vedo quei nemici là Ragazzi Il mio primo pensiero è ovviamente Non posso farci niente ragazzi La pendulite Secondo voi Lo posso abbattere corpo a corpo? No? Sto cosa mi ammazza Ecco Visto? Ancopure Il pollo anche Che carino Vabbè di proiettili ne abbiamo Effettivamente possiamo anche un po' Giocarcela Action Se c'è qualcosa gli sparo Proseguo Molto lentamente Con cautela In questo Che pare Un acquario Lasciato lì Per una settimana Con le alghe sul Sul vetro Ma che bello Madonna Secondo me Secondo me Se prendono una goccia del mio sangue E lo analizzano al microscopio Vedono sta roba dentro Dopo marcio Marcio nel DNA Buono Un altro ascensore bloccata? Dove siamo finiti ragazzi? Non sto capendo un cazzo È la stessa ascensore di prima? Tu cosa sei? Sembra uno di quei piselloni di prima Oh madonna Ma perché non mi faccio i cazzi miei? Avete presente quel video Del Di quelle asiatiche piccoline Che si mangiano Quintalate Di cibo crudo? Avete presente? Vi è venuta in mente Quella scena lì? È lo stesso schifo Che vi viene in mente? È quello Esatto Ok Sì Siamo tornati indietro Cioè siamo arrivati all'altra parte Non avrei potuto risparmiare un proiettile Che? 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 Che cazzo vuoi? Che cazzo fai? Cetrioli di mare? Non sono cetrioli di mare quelli Mukbang sì Esatto Birichini Birichini Aspetta che uccido per piacere E proseguo Via Che è? Ragazzi io non ho vita Quindi mi cura Quindi mi cura A sto punto facciamoci Refugio Madonna No 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 Veloce Che cazzo ho in faccia? No 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 Dai Cazzo Muoviti Dai Dov'è? Buono Oh cristo No 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 Quanti colpi devo sparare ragazzi? Quanti erano? È potente quest'arma Non è una buona idea Corri 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 Di qua Di qua Fai il giro Fai il giro carica Veloce Veloce Dov'è? Non vedo Ma la vista periferica È tutto sfocato È tutto molto Oh è andato giù È tutto molto realistico È andato È andato È andato Quanti colpi gli abbiamo tirato ragazzi? Giusto per sapere Cinque? Quattro? Che carino un cazzo Due Come due? Beh ottimo Cinque o sei Vabbè non vi chiedo più niente Dai Quattro colpi Ottimo Facciamo una media? Quattro e mezzo? Sei colpi per stenderlo Ok sei colpi Buono Buono a sapersi Allora questo è Uno di quelle catene Che ha portato giù L'ascensore Di prima Però non so se È la stessa Siamo arrivati da qui? Mi pare che questo sia un obiettivo Via Ci sarà un'evoluzione di trama? Dove cazzo andiamo? È la madonna C'era del nero Vero Sincero Non si vedeva proprio un cazzo Per un secondo Non ho capito più niente Un caricatore a bestione Minchia Però le tipologie di mostro sono tre Il pollo che sputa Il No quattro Il pollo che sputa Il La pendulite La pendulite Il cazzone Lo chiameremo così E Il cagnolino Questi sono i quattro mostri Per adesso Ah qua sembra un pochino più pulito Il posto Come all'inizio del gioco Dove siamo finiti? Achievement Sbloccato 007 Niente Come non detto Bello Ok zona ampia Non mi piace Non mi fido Vado a destra Buonasera Madonna Ma chi c'è lì? A posto Staccato in dieci pezzi differenti Curiamoci ancora Non mi piacciono sti suoni Se parte la musica Inizio a correre Ve lo dico Scale? Che cazzo è? Dai Lo devo dire io? È una faccia di cazzo Dai Ma cos'è? Oh madonna Ok c'è una console qua Non farmelo svegliare Cristo Ci sono altri nemici Di qua però non posso andare E questa è la famosa regina Di cui Stavamo parlando prima? Vediamo se C'è qualcosa Di qua? Complimenti Vabbè dai Che figata però Sì è affascinante E disgustoso Allo stesso tempo Come i mostri abissali Le cubo meduse No le cubo meduse Sono solo bellissime Diciamo sì Sono angeli dell'acqua Ma che schifo Flaccidino L'amico Eh? Ti prego no No Che vuoi? Che Polly Mi sta mettendo ansia Buono eh Ammazzo i tuoi figli Credo siano i tuoi figli Non ne ho idea Non so che cazzo ho combinato Che vuole? Mi sta fissando Mi sta usando Sta dormendo Ah mi sta No 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 mi qua No eh dai No non ce la faccio ragazzi Va vado Figa Vabbè è un labirinto Questo pare un pochino più semplice Come concetto Ah Buonasera Eccolo il braccio Carino Io non so cosa sto per farti Chiedo scusa Facciamo l'enigma Va bene L'abbiamo portato al secondo piano E? Ho ansia Non so come arrivare al secondo piano Da qui siamo arrivati Bello Corro ragazzi Perché veramente Non so cosa fare Ok Qua non mi vede Si fa una specie Una sorta di attacco Guarda che mi sta cercando Che carino Ciccio Oh dio No no Aspetta Via Ok calmi Calmi E pure il pollo Pure il pollo Arrivederci No 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 Aia Aia Michia che dolore Che dolore Quanti cazzo sono? Corro Scappo Via Fuce Ok 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 Non aveva senso combatterli ragazzi Non ho abbastanza proiettili Dove mi trovo? Non capisco se sono dentro il palazzo O se sono dentro il mostro Non si capisce niente Non so se neanche se è la strada giusta Non so se Ok Proseguiamo giù Di qua Uh 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 Potenziamento To Sì? C'è nessuno? Adesso compare la vecchietta Del treno di Harry Potter Qualcosa dal carrello caro Mi do una testata E proseguo Ah Quarta chiave Ottima Dino corri per la sopravvivenza In Africa Ogni mattina Corri per la sopravvivenza Dicevano gli esperti Cancello da aprire Però l'apertura è dall'altra parte Ovvio Mi sembra normale Mi sembra giusto Io non sto capendo un cazzo Ho smesso di capirci Un cazzo anch'io Da un po' Ehm Noo Ok Sento di nuovo respirare il nostro amico Che ci sta fissando da lì Complimenti Deve fare yoga Perché è eccezionalmente elastico Porca troia Che schifo Allora Dobbiamo fare sto enigma E facciamo sto enigma Ma guarda quante scale E quanti passaggi Questo dove mi portano? Dove cazzo Rola sono? C'è un cupolozzo qui Senti Ehm Facciamo l'enigma Va Che penso Di Penso sia abbastanza facilotto Spero Beh no Che cazzo E quindi Cosa vuol dire tutto ciò? No Cos'è sta cagata? Ti servono altri due pezzi Per iniziare l'enigma Altri due pezzi Per iniziare l'enigma Va bene Ehm Non è Ah Da inserire qui Ok Ok Quindi servono altri due A labirinti Che due coglioni Let's proceed Quel coso respira tantissimo È proprio vero Qui non posso proseguire Torniamo indietro Cerchiamo gli altri due labirinti Forse uno di questi Tipo Non lo so Non ne ho Non so che cazzo sto combinando Potenziamento Non lo posso fare Parete 4 Siamo andati all'altra parte Munizioni Ottimo Nuova arma? Era l'attreire delle armi quella? Quei proiettili? Ah però Sì Forse nuova arma Ottimo Sembra che spariamo ghiande Sì Un fucile a tre canne Che carino Uno Due Tre Voilà A posto A posto A posto Però Questo mi preoccupa Perché se Il gioco mi dà sta roba Siamo fottuti Capite perché siamo fottuti? Eh Minchia Bello però Visivamente Ah Ciao Puttana però Potente Aiuto 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 Carica Veloce Veloce Uno Due Tre Opla Quanti sono? Quanti cazzo sono? Minchia Quattro coppie per buttarlo giù E peccato che non ho più Perfetto Non ho più coppie d'allarme Bene Questi però ce li siamo rifatti Quindi A posto Ma ci sono gli occhietti in quest'arma Ho visto un paio d'occhi Che figata Tipo un calamaretto Penso sia un pompa Va bene mamma Eh no No Pinchia Ehi Non pensavo avesse questo ratio di fuoco l'arma Pensavo sparasse molto più lentamente Sono proprio incapace di giocare ai videogiochi Eppure eccoci qua Che cazzo è quella roba lì? Oh No 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 Disturbante Ma che c'hai sulla schiena? Sono altri Altri piccoli tè? E che carino È una mamma Che becchè bei barbigli Ti voglio di far così con la faccia dentro Eh? Vero? Giusto? Vero? Allora Noi siamo arrivati da dove? Boh Da qui? Che fa sta roba? Ah sì No no Ho sbagliato Fè Scusate ragazzi Mi sono un attimo Mi disoriento un sacco sto gioco Perdonatemi Come Dory Che? Chi? Ho recuperato poi il film Dory Di Dory E non mi è piaciuto tantissimo L'ho trovato molto esagerato E il faccione? Ah è lì Bene Madonna E questo? Sembrano uova Ah no Forse sono qui i labirinti di prima Capsulossi con dentro i labirinti Non lo so Non ne ho idea Eccolo qua In tutto il suo sprendore Madonna È una memoria di merda Come i pesci rossi Non mi ricordo Devo Porca troia Porca troia Porca troia La sta da vista Bebì Vieni dai Quanti cazzo sono? Non va bene Quanti nemici sono? No 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 La seconda Veloce Oh merda 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 Eh vabbè Poi non c'entriamolo Eh Aggiungiamo il fatto che non sono capace Veloce 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 Non vedo Non vedo Il pollo Ok bravo Colpisci Colpisci lui Eccolo vivo Era ancora vivo Pezzo di fango Bah sei morto spero Avrei tanto voluto fare un headshot Ma non ho mai capito Dov'è la testa ragazzi Ok ascensore Sempre con i quattro pallini Noi ne abbiamo sempre tre Giusto Ancora non abbiamo potenzial Oh sì Non mi ricordo più Dov'è che si vede tra l'altro? Sì tre Let's go 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 Chi sono? 23 e tre Attenzione Dovremmo chiudere Ma voglio perlomeno cercare di Recuperare la terza chiave Niente Mi arrendo perché non so più dove andare Di qua Eccoci Ottimo Trovata A posto Quindi dovrebbe adesso salvarmi il gioco La prossima volta ragazzi lo continuiamo È l'interno dei vaccini covid Perfetto È uno di loro Eccoci Dentro la porta numero 5 Vediamo Troviamo Casa Oddio ragazzi Sono Aspetta Cadaveri? Gli umani di prima? No Non troviamo più le creature che c'erano prima Sono Ho voglia di andare avanti tantissimo Vi giuro Però dovremmo Dobbiamo chiudere ragazzi Ancora qualche metro Cosa c'è di qua? Esploriamo Esploriamo Sì È la strada giusta No Non lo è Che schifo Ma dove sto andando? È di qua che devo andare? Non mi ricordo Vabbè che tanto più o meno le strade dovrebbero essere sempre quelle No mi sto perdendo Non so dove sto andando ragazzi 24 ore di live No Il mio culo sconsiglia Stiamo ritornando dal Dal testone Giusto Qua c'è una porta da 4 Aspetta 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 C'era una porta da 4 Esatto Permesso Volendo potremmo anche richiuderla Ma non vedo per quale motivo Ah Non sputare Non l'ho preso Davvero? Buono Abbiamo finito tutti i proiettili Qua non vi dico che cosa sembra Perché sono un signore Pare una vulva Io cercherei di capire Madonna Che faccio? Mi viene voglia di nascere Non so per qua Ma è giusto Forse qua è dove dobbiamo Forse questo è il punto dove dovrebbe Teoricamente Non lo so Non lo so Non lo so Buongiorno Ragazzi dai Prossima volta lo continuiamo E cerchiamo un attimino Di capire dove andare E che cosa fare E concludiamo il tutto Con questa meravigliosa immagine Ovviamente Twitch Contestualizza Contestualizza Buongiorno Ci siamo dai Menu principale E via Non so Non so cosa sia Sta bestia Ma la teoria Che possa essere La madre Di tutte le bestie Che vediamo finora Potrebbe avere senso Vedete che anche Nel menu principale Vediamo il protagonista Ricoperto da Sti tentacoli Questa specie Di soluzione Fungine Fungine Vuol dire Che probabilmente C'è una corruzione Che schifo Le dita si muovono No Pensavo che le dita Del personaggio Si muovessero In base A cosa Stessi selezionando Fa troppo schifo Grazie Grazie Gli sviluppatori ringraziano Io penso che Questo gioco Ragazzi Sia Forse uno Dei pochi horror Che c'è Nel mercato Ultimamente Cioè Non fraintendetemi Ci sono giochi horror E giochi horror Questo È Un gioco horror Cioè Non è Il lindi Del cazzo Con i jumpscare Questo è un gioco horror L'unica cosa Che avrei fatto io Come feedback L'unica cosa Che posso dire Meno enigmi Troppi enigmi Cioè L'idea di dover anche Capire la caudì Ha senso Ci sta È interessante L'idea che Non ti dicano niente Che tu Man mano capisci Capisci Cosa sta succedendo Carino Però Troppi enigmi Bello ma non ci vivrei Esatto Tra l'altro Stavo vedendo qua Guardate Tra le La parte L'epilogo partita Ma tra Gli achievements Bloccati Ci sono Appunto Gli achievements Che si chiamano 004 005 006 007 Non hanno manco Un nome Giusto perché Penso che i sviluppatori Non vogliono neanche Farti capire Che sta succedendo Tipo Magari Giochi un gioco Come può essere Un amnesia rebirth E ti viene fuori La prima luce Per dire Dopo che ho ucciso Un nemico Che non sai neanche Che cazzo che sia Però ti da un'idea Questi non hanno neanche voluto mettere Due linee di testo nel gioco Non c'è una lettera Non c'è niente Tu non sai niente Sono forse i capitoli Boh Non so quanti siano So che il gioco dure 5 ore Abbiamo visto che il gioco dure 5 ore Non male Non male Allora Musichetta di sfondo E chiacchiere Ti lascia confuso E mi piace per quello Perché ti lascia confuso Yes 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 Ehi La madonna Un po' di music Un po' di smooth jazz Sentite? Si sente ragazzi? Sì adesso sì Chi l'è? Isabello Grazie mille Grazie anche Mish Ragazzi Grazie per tutte quante le sub Grazie 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 Utilizzate i social Andate su Instagram Casomai su TikTok Non possiate recuperarvi Le 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 clipini Perché lì Ce li bannano Un giorno sì E un giorno pure Quindi Vorrei parlarvi Della nostra esperienza Con i social Soprattutto di TikTok Ma Non lo so Abbiamo delle idee Io e Andrea Che forse Potremmo Fare una sorta Ma che è sta musica? Stuart Little Sembra che sto Per andare a vivere Un'incredibile avventura Oltre l'uscio Di casa mia Poi non so Come finisco In galera Beh dicevo Con Andrea Abbiamo un paio Di idee Quindi non so Se affrontare L'argomento E Animal Crossing Avete rotto i coglioni Con Animal Crossing Va bene Basta Vola Segromit Oh È vero E così Dino partì Per non più Ritornare Mi saluti È il mio Secondo mese Di sub Gli erro Grazie bestiascia Ciao Mi dispiace Che non t'ho cagato prima Però non so L'hai error Ce l'ho fatta Sì Con questa musica Ci starebbe bene Anche una Bombetta E una pipa Per un attimo Star non stavo capendo Di cosa tu stessi parlando O mi sono preoccupato L'importante E che tu stia bene Non è finita la live Altrimenti Non vedresti più nulla Siamo in attesa Di The Frigis Red Allora Programmazione di questa settimana Domani c'è Siateci Perché domani Continuiamo Coso The Eternal Cylinder Bellissimo Il gioco evoluzionistico Con i pupazzoni Che dobbiamo cercare Di far sopravvivere Modificandoli Modificando il loro DNA E andando avanti Bioma per bioma La storia Della nostra vita Della genesi Dell'uomo Siateci Veramente un prodotto Indie interessante Ve l'abbiamo anche regalato Ecco bravi Mi raccomando Non dico utilizzate i punti canale Perché non servono più una minchia A quanto pare Anche lì cercheremo di capire Che cazzo fare Però Stay tuned Perché ogni mese Vi regaliamo un gioco Questo mese Era Eternal Cylinder Il mese prossimo Chissà Domani C'è quello Dopodomani The Frigis Red Con l'Auror Night Vogliamo fare 3 Auror Night A settimana Ho deciso Così Così ho parlato Finché ci saranno Auror Night Altrimenti poi Non me ne faccio nulla Con i punti canale Eh ragazzi Non so Non so più che cosa Perdonatemi Ma non so Sicuramente Sicuramente Altre interazioni Le facciamo Però per adesso Non ho idee Perché serviano Serviano per quello Serviano per i giochi Troveremo Qualcos'altro Non devo fare niente A scuola Ma ci devo andare Comunque Penso che sia Più o meno Hai raccontato Tutta l'istituzione Scolastica italiana Non devo fare niente A scuola Ma ci devo andare Comunque Buona fortuna Auror Night Anche nelle live Del pomeriggio Ma ho appena detto Abbiamo appena detto Che non ci saranno Le live pomeridiane Per un po' 50.000 sub gratis Così Proprio ora che ne ho fermati 30.000 E il fumetto Ancora L'hai chiesto al cardiologo Per le 3 Horror Night No 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 Lui non lo sa Deve rimanere Un nostro segreto Vabbè poi leggerà di me Sul giornale Alla fine Non avere un po' Non avere più anima e voce Dipende Non lo so Multiplayer Nuova notizia Arca puttana Ma che vaffangulo No non disattivo Adblock Per vedere le tue pubblicità Che succede? Ah c'è l'evento ancora Di multiplayer C'è l'evento di multiplayer Stanno reactando All'evento Per Silent Hill Quindi ancora non è finito E ragazzi Non so Dove cercare Perché mi sa che ancora Non essendo finita la live Di presentazione di Silent Hill Non Vediamo domani i trailer Se ci sono dei trailer Perché per adesso Non credo ci sia un cazzo Secondo me De Frigy Reset È un gioco Sì sì Mi sa che l'evento Era alle 23 A parte alle 23 No col cazzo ragazzi Mi dispiace Con tutto il bene del mondo Non Non c'ho voglia C'è un trailer? Bugiardo Non c'è ancora il trailer Ragazzi Non è ancora finito l'evento Se volete recuperarvelo Andatevelo a vedere adesso Io poi Ne parliamo domani Io tra l'altro Sapete che non so neanche Se ha più senso fare Le reaction Agli eventi Sony Microsoft E quelle cose lì Perché Stanno diventando Sempre di più Inutili Cioè proprio Inutili Non c'è più Non c'è più Il Forse ha senso guardarsi Game of the Year Giusto per vedere È la nostra notte degli Oscar Ha un po' senso Per il resto Non vedo più il senso Di guardarsi Qualche Gli eventi Questi eventi qua Ah fanno un remake Bene Vai su E non Non si può sapere Commenta la serie tv Di Di Damer Non l'ho vista Non l'ho ancora vista Ragazzi Non ho Credo neanche Tempo di riuscire a Vederla Non mi ispira Più di tanto Tra l'altro Non posso mettere Il link completo Purtroppo Ah ok Ho aperto Il link Che mi ha passato In questo preciso istante Il nostro caro Moderatore Daxin E Sono finito In un lato oscuro Dell'internet Questo è ciò che sento C'è una barra di caricamento Ho finito il download Di un virus Ma 48 minuti Ragazzi Ma porca troia C'è questa sarebbe La presenza C'è Meraviglia pura Questa È la La nebbia di Silent Hill È la sala d'attesa Dell'evento Quindi poi parte Che tutti La gente si Ha aspettato 10 minuti Con sta roba Siamo fuori Siamo fuori Ripeto Il trailer ce lo guarderemo dopo Ragazzi Non ci ho vado Non ci ho vado a vedere 48 minuti di presentazione Ce lo guardiamo domani Con calma Un riassunto Di quello che Di quello che hanno Di quello che hanno presentato Dai Comunque un remake A posto Era palese Non è che c'era tanto Ormai non fanno più niente Di nuovo ragazzi Abituiamoci all'idea Che non fanno più niente Di nuovo O se fanno qualcosa Di nuovo È palesemente Lo stesso gioco Con un altro titolo Tipo Calypso Calysto Protocol Palesemente Un Appunto Dead Space Però con un altro nome Veramente dura 3 minuti Ma se ci sono 48 minuti Di evento L'avete visto anche voi Poi non so se il trailer Di per sé Dura 3 minuti Ma sì ma ce lo guardiamo Ragazzi ce lo guardiamo domani Dai su Che cazzo È così importante Vederselo adesso Sono tutti i remakes Sono tre giochi diversi Uno sarà fatto da Annapurna E il remake Lo fa un altro team Anche Vediamo che cazzo Vediamo che cazzo Spero vi siate divertiti Stasera mi dispiace Che io non ce la faccio Che io non ce la faccio Che i miei neuroni Non riescono a concatenare Un ragionamento Che sia uno E che quindi Gli enigmi durano All'incirca Di media 30 minuti Però Ehi La colpa è anche Un pochino Degli sviluppatori Ammettiamolo Evidentemente Non sono molto inclusivi Con gli uomini scimmia Tipo me Perciò Non riesco A aggiungere una fine Ma grazie al vostro sostegno Grazie al vostro aiuto Ce l'abbiamo fatta Perciò grazie bestiace Domani 21 e 30 Siateci per una serata Eccezionale Per un indie Di eccezione E Niente Andate sui social Che vi aspettiamo lì Grazie bestiace Di cuore Grazie per la compagnia Buonanotte Fate i bravi Fate i buoni Termina la diretta Ho voglia di vagabondare Questa musica Mi sa che è proprio Quello che farò